Mi chiamo Annalisa Lucani, insegno disegno e storie dell'arte presso il liceo scientifico Giovanni da Castiglione e da alcuni anni mi occupo della didattica CLIL nelle classi quinte. Per questo motivo sono interessata a cogliere tutte le opportunità per migliorare le mie competenze linguistiche e per apprendere e sperimentare nuove metodologie didattiche. L'esperienza del corso di formazione di CESTER è stata molto utile. Le lezioni e i laboratori presso la Conan School sono state ricche di spunti per la progettazione di attività didattiche più coinvolgenti e partecipate. I docenti infatti, grazie ai loro diversi stili e modalità di insegnamento, ci hanno offerto numerosi esempi di attività facilmente replicabile ed adattabile a diverse discipline. Hanno inoltre condiviso con noi materiali e link a siti web molto interessanti per scaricare lezioni già pronte o singoli documenti. Molto utile infine è stata la giornata trascorsa all'interno di una scuola secondaria dove ho potuto osservare il lavoro dei docenti in classe. La cosa che mi ha colpito di più è stato il rigoroso rispetto dei tempi di una lezione che si sviluppa sempre con un primo momento di brainstorming in cui si cerca di catturare l'interesse della classe, una fase centrale di apprendimento dei contenuti ed una fase finale di verifiche netinere. A partire da questa esperienza ho iniziato a curare con molta più attenzione l'organizzazione delle diverse attività all'interno delle mie lezioni, sia CLIL che disciplinari, in modo da avere un feedback a conclusione di ognuna di esse e ciò ha avuto una ricaduta positiva nel processo di apprendimento.